Se confrontiamo l'8% che oggi lo definiamo un po' come lo zoccolo duro della sinistra arcobaleno, il 14% del potenziale elettorale, non è un ragionamento assurdo pensare che nei prossimi 10-15 giorni questo 8% possa incrementare. Oggi sostanzialmente con l'8% alla Camera avrebbe circa 2 milioni e 600 mila voti in valore assoluto e abbiamo registrato negli ultimi 10 giorni un incremento. Il voto alla sinistra arcobaleno sta crescendo, questo è un dato importante perché l'analisi di PR è un'analisi fatta su un campione di 5 mila persone, non sul solito campione di mille, quindi un campione più largo. Ed è un campione che ci dice che i cittadini hanno scoperto il trucco del voto utile, nel senso che i cittadini hanno capito che il voto che serve è quello utile per il precariato, per l'ambiente, per il caro vita e non quello che è utile a Berlusconi e Beltroni. Hanno capito che loro chiedono il voto utile, nel senso che è utile a loro, non ai cittadini. E questa cosa fa una differenza, cioè più loro insistono e fanno capire che vogliono il voto dei cittadini per i loro interessi e magari per fare l'inciuscio dopo le elezioni, perché i dati che si danno sul Senato dimostrano che tra l'altro loro vogliono arrivare a una sorta di inciuscio, lo volevano anche prima delle elezioni, adesso la gente capisce che il voto utile è il voto utile per il caro vita, per l'ambiente, per il lavoro e non quello che gli serve a chi vuole semplicemente prendersi il voto per farne quello che ritengono utile a loro, non ai cittadini. Quindi più fanno appello in questa direzione, più chi invece sta concentrando con fatica la campagna su cose specifiche, come noi, riescono ad avere un consenso che aumenta. L'altra cosa importante è che sulla campagna elettorale, che i Verdi in particolare, dentro Sinistro Alcobaleno, hanno puntato molto sul tema dell'ambiente, sta avendo un risolto importante, cioè tra i cittadini che, chiariamo, ambientalisti non sono gli iscritti alle associazioni, sono i cittadini che si definiscono nei sondaggi preoccupati innanzitutto dei temi ambientali. Ora, non era scontato che la grande maggioranza di questi cittadini, con il tentativo di tutti di accreditarsi oggi come più o meno ecologisti, che queste persone identificassero, per la grande maggioranza, nella Sinistro Alcobaleno, il voto da prendere in considerazione. È il risultato di una fatica, per essere chiaro, in queste settimane, che i Verdi, soprattutto, hanno fatto per spiegare che l'unico voto ambientalista, o il voto più ambientalista in assoluto, è quello alla Sinistro Alcobaleno. È evidente che la scelta di PD e PDL di parlare di nucleare, la scelta di dirsi come ambientalisti, ma non essere poi sui valori ambientali, evidentemente sta facendo capire che è la Sinistro Alcobaleno che punta sull'energia solare. Devo dire, il risultato di ieri, che finalmente la Stato-Regione ha dato il via libera anche alle centrali solari in Italia, sul modello spagnolo, è un segnale che, come dire, anche a fine legislatura, alcune battaglie che noi abbiamo intrapreso, per quanto ostacolati, per quanto attaccati, per quanto fatti oggetti da alcuni poteri di una vera e propria aggressione, noi stiamo portando, come dire, con determinazione, avanti la battaglia per il solare, in alternativa al carbone e al nucleare. E' chiaro che gli altri, che sono favorevoli al carbone e al nucleare, quantomeno qualcuno si rende conto che il carbone non è tanto ambientalista e che anche il nucleare non è così verde come alcuni esponenti ex-ambientalisti sostengono. E anche nelle tre tematiche, il costo della vita, il lavoro e l'ambiente, per noi è molto importante, perché voi sapete che proprio qui abbiamo presentato la settimana scorsa le cinque giornate verdi, e che erano concentrate su questi temi. Noi faremo il 29 iniziative in tutti i mercati, in tutte le iniziative d'Italia, contro il caro vita, che significa, per creare, e lo sa bene Loredana che ci ha lavorato, la filiera corta, la possibilità di vendita dagli agricoltori direttamente ai consumatori, noi stiamo lavorando perché si aprono sempre più i negozi degli agricoltori, che permettano quindi di fare una scelta fuori dell'ambiente e dei consumatori, perché anche non spostando le merci con viaggi di migliaia e migliaia di chilometri è una cosa utile all'ambiente e si risparmia perché uno compra direttamente dagli agricoltori.